Gran parte dei campioni del mondo non sono persone normali. Devi avere qualche rotella fuori posto per alzarti dal letto e fare cose straordinarie. E io non sono da meno. Sotto questa maschera da ragazzo normale e gentile ho un ego enorme. Ci vuole una grande motivazione per raggiungere certi livelli. E... l'ego è la mia motivazione. Buongiorno al mondo. Siamo iniziando per il start del 7 e vital race in questa Coppa America.